Se avete cliccato perché siete curiosi di sapere come funziona questo giveaway, ve lo spiego subito. Ciao a tutti ragazzi, io sono Tony e questo è Tony's Mind. Vi spiego subito il tutto. L'idea del giveaway nasce dal fatto di voler ringraziare voi iscritti per il costante seguito, i commenti e tutta l'attività che si svolge attorno al canale YouTube e Instagram, che sono in fondo le mie due piattaforme principali. Vorrei iniziare quindi col regalare ad uno di voi un prodotto che mi sta particolarmente a cuore. Non perché è estremamente costoso, perché non lo è, ma proprio perché nonostante sia un entry level, ha un'eccezionale qualità costruttiva e cura nei dettagli. E poi perché è stato uno dei primi prodotti che ho ricevuto e testato. Parlo ovviamente delle Piston Classic di OneMore. Le Piston Classic di OneMore sono un classico moncavo e jack dal design davvero interessante. Se non avete pretese audio da studio di registrazione, sono sicuro che questi auricolari andranno benissimo e vi sfido a trovare qualcosa che si avvicini al suono di questi auricolari su questa fascia di prezzo. In riferimento al prezzo è anche la qualità costruttiva e il packaging, che sono curati nei minimi dettagli. Potete trovare all'interno un piccolo case con tre cuscinetti auricolari mai utilizzati, nel caso di questi in particolare, oltre a quelli in dotazione, e anche una graffetta per legare il cavo. Se volete qualche dettaglio in più, vi linko la recensione completa che ho fatto qualche tempo fa. Quindi, ricapitolando, questi sono gli auricolari in regalo, gli stessi utilizzati da me per la recensione. E come potete vedere, lo stato di conservazione è ottimo. Ma cosa dovete fare per partecipare a questo contest? Qui sotto in descrizione scriverò il regolamento completo, ma essendo la prima volta vi spiego qualcosa io. Cliccando sul link del contest si aprirà una finestra che vi chiederà di inserire un nome e una mail, oppure di eseguire il login con uno dei social che compaiono, che mi servono sostanzialmente per contattarvi in caso di vincita. Una volta eseguito il login dovete completare almeno una di queste azioni, come ad esempio l'iscrizione al mio canale o guardare l'ultimo video e così via. Alcune azioni sono bloccate e dovrete prima sbloccare quelle precedenti per potervi accedere. Attenzione! Più azioni riuscite a completare e più possibilità avrete di vincere. Ad ogni azione corrisponde uno o più punti e al termine del contest più punti avrete e più possibilità ci sono di essere sorteggiati dal software. Comunque, trovate tutto quello che sto dicendo anche scritto nella descrizione del video. E se avete qualche domanda non esitate a chiedere con un commento. Il vincitore del giveaway verrà annunciato giorno 1 novembre? No, in realtà facciamo domenica prossima giorno 5 novembre. In anteprima sul canale Telegram, quindi seguitemi anche lì e poi anche su Instagram. So che può sembrare un piccolo regalo, ma dalla vostra partecipazione dipende la possibilità di creare altri contest con altri fantastici regali. Quindi partecipate e condividete questo video ovunque. Vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale, anche perché è un requisito necessario per partecipare al contest, e di mettere un like se vi piacciono iniziative come queste. Io sono Tony e noi ci vediamo molto presto.